Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su Dina Oviora, ci siamo, abbiamo fregato un altro pezzo di Cina del Nord mo' appena finiamo i correre facciamo anche sta missione ottenendo dei permanent claim su tutto il resto della Cina i Mingo ormai sono la nostra beach, intanto continuiamo la missione degli Arkhand che va estremamente rilento quando potremo, insomma, appena abbiamo un attimo di tranquillità ci andiamo a bere Nogai e ci vistiamo per la prima volta con la Muscovia cercando di buttarla giù oppure di fregargli il più sordi possibile insomma, fate voi, stiamo andando estremamente bene, la Manpower sta volando, non abbiamo manco l'idea di quantità quindi questo è notevole, potremo fare un altro esercitino da 10 se vogliamo che non sarebbe male come idea visto che più territori abbiamo, più problemi abbiamo con i ribelli insomma, 50 Ducati va benissimo, allora abbiamo dei problemi dei soldi perché con le orde è così ragazzi ogni tanto facciamo il pareggio del bilancio ma non contateci troppo spesso qui ho portato a 10 sta miniera d'oro mo appena posso porto a 10 anche questa e ho pure convertito la cultura qua, di questa qua, quindi non ci sarà bisogno di accettare la cultura tibetana qui Yuigui ce l'ho accettato da assai quindi non ci sarà bisogno insomma di convertire anche loro mo quanto mi manca qua? eh mi manca assai tempo ah in realtà dovrei pure fare colonialismo vabbè guarda, io qua uso sti punti che mi avanzano local dev per fare punto sviluppo, punto sviluppo, punto sviluppo ok, mo appena ho 84 punti facciamo l'ultimo punto del miniera d'oro così almeno abbiamo un po' dei soldi che ci aiuteranno come vedete 9 euro dalle miniere d'oro mo aumenterà pure 11 cioè solito, solito ragazzi 21 contro 31, spero di vince ciò in generale molto buono un altro claim sulla Cina guarda io faccio pure uscire una sortita dei 2k cristiani così almeno abbiamo più possibilità di vince ok, mi sa che sono serviti quei 2k cristiani la sortita poi ti fa perdere l'assedio se nel caso perdi perché sono morti tutti quelli che difenderebbero forte però forse ce la facciamo ok, perfetto perfetto, ce l'abbiamo fatta ok, in realtà la Garrison si è unita direttamente al suo esercito ragazzi perché non sono tornati qua dentro beh, buono, abbiamo ottenuto 2k power gratis se può dire ok, abbiamo fermato i nostri ragazzacci più pericolosi intanto abbiamo già fatto un clay, un core quindi possiamo sempre andare contro là se c'è qualcuno che possiamo corare non ci abbassa l'autonomia, niente mi metto dividendo l'esercito aspetta, non è vero qui mettiamo 10 fanteria e 2 cannoni mentre i cavalieri vanno da qua ok, mi vedo in forma di minga alla fine qua la ribellione mi hanno fermata c'hanno 20k manpower cristiani e 0 manpower ricordo che avendoci 0 demandato le loro truppe sono de burro quindi non contano è come se incellano fate conto che ce n'hanno alla metà 10 poi ce n'hanno probabilmente pure problemi di stabilità problemi di altri tipi works house insomma, probabilmente stanno belli impicciati quindi posso portare 8 i cavalieri qua ora lo faccio anche là qua 15 che è il numero brutto ok, 10 cavalleria 10 cavalleria questi sono mercenari pure questi ok allora, posso fare un'altra volta l'evento che abbassa il costo dei monumenti ma non me va ok, qua 8 cavalieri qualche truppa timida timida ogni tanto la facciamo in realtà il limite ce lo dovremmo avere sì, sì, sì va benissimo ma posso potenziare i navi? questo sì che sarebbe una tragedia ok, questo? ok, ok si strilla la Corea sta in guerra da mille anni con il Giappone che si sta espandendo ok, ok ricordate che il Giappone fa schifo, eh quindi cioè il Giappone è giocato dall'IA fa schifo quindi quando diventa troppo grosso lo volete spawnare meno 4 questo ovviamente sono un sacco di esordi per abbassare la corruzione probabilmente ci avremo tipo eh, meno 9 per abbassare la corruzione ok, tiè ci siamo missione 25 unità dell'orda che vabbè tanto non serve a niente e permanent claim sul resto della Cina tiè ora ci servono 9 province nel sud della Cina per fare pure questa prendiamo un punto stabilità 100 punti in tutto e poi dovremmo anche ammazzare la Corea per fare quest'altra ci manca poco probabilmente facciamo prima questa che prende il dominio della Cina poi se ammazziamo Shogunato più più uno di cosa che devi fare in realtà devi solo prendere Kyoto ok, se prendiamo Kyoto più uno di prestigio fino alla fine della partita vabbè vabbè insomma niente di che ok tra 11 province prendiamo permanent claim su tutta la Persia con la Sun e Pontic Step insomma un po' di roba ragazzi un po' di roba 100 di religiosi uniti tra pochissimo ce l'avremo ragazzi appena scegliamo una religione sincretica che credo che sarà proprio il confucianesimo quindi vabbè insomma poi ci pensiamo altre missioni 5 workshop ne abbiamo ancora fatti allora facciamoli dai 5 workshop mi saranno fatti 3 se ben mi ricordo strano che non ho conquistato nessuna provincia cinese che abbia dei workshop pensa come stanno impicciati quindi con questo dovremmo andare bene e finiamo questa missione una tesoreria e no questo purtroppo eh questo ci servirebbe perché in questo modo abbassiamo l'inflazione sta a 21 Mong Mao c'ha delle provincie che ci appartengono a Mong Mao è questo qua ok abbiamo preso anche dei permanent claim su Mong Mao grazie a quella missione un po' di posti insomma oh ma non stiamo positivo che abbiamo fatto vabbè solo 10 idee stiamo positivo va bene così eh per quello era la corruzione quindi come vedete abbiamo risolto i nostri problemi economici più 7 al mese manco ma aspettavo era così tanto e senti che possiamo fa qua in realtà qua dovremmo attaccare proprio proprio no gay per far vedere che siamo a favore del pride mount quindi andiamo qua andiamo qua andiamo a pissare no gay e senti questo lo possiamo poi portare sul fronte questo ci servirà per ammazzare la russia shun tutto il resto non c'è nessun problema ok va bene senti io mi ricordo che c'erano ancora di più ah beh perché prima c'erano il coso il teologo con altro meno due dal resto ok zapparang è diventato dalla cultura giusta a proposito ce l'ho gli soldi per fare l'ultimo punto di sviluppo nella miniera d'oro ok a posto a posto a posto ma ce l'ho altre miniere d'oro ok no no potremmo prendere tranquillamente questa la prossima guerra con i Ming ovviamente ricordo c'era miniera d'oro in Giappone eh non c'è però vabbè ok Bashid denogai sarà un'altra miniera d'oro Ning eccolo eccolo qua Ning Tribal Conquest e ci siamo e ci siamo ragazzi appena si liberano gli stati ai Ming one shot così one shot zero morale li ho beccati o ballati o che insomma appena spamano gli stati si vede che stanno così quindi questo è proprio una conquista easy carqua conquista easy wipe out ok questo va qua questo va qua questo va qua questo va di qua e questo va di qua gli occupi tutta così un po' ma destra truppe nuove e hai vinto tiè a quella è già finita a Chicago non può più essere una un degno rivale sto vendendo Chinaware quindi 0,25 unità dell'orda in più all'anno ok hanno perso già 100% tiè stessa cosa se accade con altre nazioni che si liberano dai Ming si strilla a treo cocchino è finita vabbè ma cocchino è il nostro passauro che ci ama adesso ok insomma la cina stampicciata e questo è quello che dovete fare nel caso in cui la cina esplode appena arriva in uno stato tac dichiarazione di guerra che è quello che è capace pure che fate tutta la cina appena esplode i Ming appena esplode i Ming vi fai tutta la cina insieme capacissimo lo devi fare subito perché se no si alleano tra di loro lo fai subito zero alleanze gli attacchi triple conquest e gli fai un casino che cos'è qui build buildings ok questo è quello che stavo cercando di fare da prima c'erano pure 10 le tasse in più per 25 anni 10 le tasse all'anno però quindi in realtà al mese sarà meno di uno vabbè insomma non si butta dai non si butta build a treasury questo qua c'erano i soldi che devo rimedi a piano piano in qualche modo però insomma lo ci pensiamo quindi i Ming hanno ancora meno dei 20k c'erano 14.000 soldati zero di manpower ok stanno impicciati i Ming ma mia poracci ok i cristiani sono arrivati qua no no guy e russia contro contro de noi ok la russia non c'ha pochi soldati eh la russia c'ha 27.733 ok vabbè insomma c'ha il grosso e che voglio qua voglio tort cara tort cara questo posso farla questa guerra tranquillamente perché questi ragazzi i musulmani non hanno preso l'artaggressive expansion con me i timuriti ce ne erano pochissima è perché questo è anche dipende dal gruppo culturale ok addirittura gli ottomani c'hanno zero ricordate che se mo ci beviamo tutti in ok in linea teorica possiamo star fermi con i musulmani per un bel po' potremmo fare una roba così togliamo i confini qua chi è in ok come vedete alla fine non c'è nessun problema ok la russia la russia gli posso fregare i provinci o siccome stanno no non posso vedi non posso quindi la russia non possiamo toccarla adesso vabbè la russia insomma gli fregiamo tutto 25 riforme del governo che me frega tiè tanto con 5 riforme non è che sia un problema posso fare un'altra dec no manca assai quindi 2 culture promosse in più che ancora non stiamo sfruttando 5 sconto alla tecnologia poi 4 15% 100 aggressive expansion di me comunque ragazzi un'altra cosa che dovete fare dei mix è le idee economiche in realtà purtroppo direi di non farlo perché sto a vedere che stiamo molto indietro con questi punti amministrativi quindi in realtà le prossime idee che in realtà quando si sblocca scusa a livello 10 quindi in realtà intanto stiamo tranquillissimi in realtà vorrei fare le idee diplomatiche le idee diplomatiche che mi daranno l'idea una delle idee più potenti che c'è stanno che è questa 20% di sconto in meno alle province nel trattato di pace quindi prendi 20% in più di province no trattato di più ti prendi una percentuale in più di province ogni trattato di pace che fai che mix c'hanno con le idee diplomatiche queste allora questo con le diplo 10 abilità sedio e 10 danno da shock incredibile che con le idee del lord è incredibile e invece questo con le diplo che c'hanno 20 improved relations e una cultura promossa in più vabbè questo fa schifo Ning ci sta salutando ok qui dobbiamo stare attenti perché in realtà essendo che i nostri ragazzacci russi un po' d'esercito ce l'hanno potrebbe essere un po' de botte le piamo allora Ning ci saluta e non ritorna più ricordatevi anche che dovete impedire che si creano queste situazioni perché se non ti arrivano stati confuciani che potrebbero coalizzarsi quindi prima li fai fuori questi che si liberano dai Ning meglio è quindi scorciamo tutto scorciamo tutto scorciamo tutto e scorciamo tutto ma sta 18 sviluppo e qui va a posto così 40% l'aggressive expan c'è delle sovraestensione lo sbaglio sempre sovraestensione quindi in realtà ammazza ammazza abbiamo preso province importanti senti eh probabilmente pure a questo io devo mettere generale visto che probabilmente tre generali ce l'ho sette dei rogai stanno camminando nelle foreste per andare a far me l'attacco a trabocchetto insomma grande classico grande classico si deve conquistare sempre la provincia che il nemico non si aspetta anche se la tua terra sta venendo bruciata dai nemici ok tiè mille è un risultato che sto a fare ok questo ce l'ha no coso ci mettiamo questo no gay attacchiamo no gay ammazzo pure l'esercito o ucci ok ucci ci hanno fatto un claim che vuoi qua 25 punti amministrativi coi ok questo va qua e questo va qua ora tra poco dovremo vedere i russi ok li ho beccati questa è una pianura e questo è un deserto quindi vanno bene tutti i tuoi mazza che mix che io ho fatto vediamo però quanto sopporti gli occidentali quindi forse questo mi conviene fare sto giochetto così perché così va aiuta contro i russi qua ci stanno altri russi vediamo così il becco allora wipe out l'esercito di no gay 30.000 contro i russi qua che gli fiamo e ho stravinto questo conviene bene su perché ho visto un altro esercito russo che probabilmente va aiuta a questo no non ce l'ha non ci è venuto manco c'è troppa paura che è wipe out questo si è wipe out un esercito russo andiamo qua wipe out un esercito russo mentre gli conquisto la capitale hanno gay qui questi stanno andando a difendersi sul forte prendiamo un po' di spazio così no 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 ok dai famo così qui c'è un forte stronzo eh ma appena faccio questa conquista qui questo va qua questo va qua ma che è morto generale o non ce l'ho mai messo boh mi sa che è morto generale perché ce l'avevo messo ok qua ovviamente cerchiamo di occupare tutti i territori hanno gay in modo che non addestri queste truppine da un k fastidiosissime a treco guassam è finita ok ti è hanno cioccato una marea dei esercitini ok perfetto i russi stanno bloccati qua no stanno avvenendo a ceibara ceibara che cos'è ceibara è un posto dove possiamo attaccare perché è pianura ok questi possono tornare all'assero dei no gay però ci devo mettere un nuovo generale eccolo qui perfetto un altro cappino morto è morto il diplomatico ci mettiamo diplo rep più uno così finalmente hanno i tono gay cioè gli arkand ok senti si pure tu vai qua questo attacca qua questo attacca qua e questo viene qua tieni pure questi devono tornare qua all'assero di no gay qui dovrebbe chiare i russi dai si 10k in pianura pure col passaggio del fiume eh questi non scoppiano fondo esercito anche se non erano quelli giusti passaggio del fiume questi scoppiano ok sono scoppiati wipe out altri cristiani però sono comparsi ok mo e vabbè sta guerra è andata molto meglio del previsto pensavo che i russi erano più pericolosi di questa roba che stanno a combinare ragazzi questi stanno a tornare indietro stanno andando a Dagi dell che è sempre una pianura allora posso prendere un scienziato naturale che costa la metà oppure 50 punti amministrativi non c'ho i soldi per permettermi un arvai sul livello 3 anche se tra poco potrò ok andiamo a aiuto a questi per il cosomo prendo io il passaggio del fiume però c'ho un esercito da 14 qua pronto ho vinto l'assedio di no gay quindi basta adesso i diritti della comunità LGBT finalmente cominciano a avere una rivalza già nel 1501 ecco qua wipeout e wipeout ok ho beccato due eserciti russi no in realtà uno solo ok andiamo a vedere che succede qua 3k russi niente ok non l'ho cioccati qui invece ciocco qualcuno che ma probabilmente ce li pensa ok si ce li ha ripensato si eh ma dove sta l'esercito di no gay ah è mossa mossa standard 1 ok niente non l'ho beccato russi c'è un forte qua si il forte di kazan questo esercito quindi quindi attenzione ok qui facciamo così lasciamo uno solo per andarci a cioccare no non posso allora niente niente i russi cominciano il tour de france a meno che a meno che non lascio diciamo la cavalleria qua 5k cavalleria mi posso portare via ok si quindi sti 6 vanno a fare aziatore in giro vado a ammazzare la gente con questo esercitino da 6 l'angressione degli arkand sta ricominciando senti ma come va il resto del pianeta c'ho dei cosi c'ho dei dei rebels no forse finisco quella missione con quella 37 che no non devono essere core non devono essere core quindi stavolta bastava che conquistavate 3 province in più eh peccato che non stanno continuando a implode i ming dai anzi quanto ci vuole ok questi azeturu ok bene bene quindi con sti 6k in pianura li sfasci proprio del tutto guarda qua mo vado a inseguir pure sti 4 tiè mamma mia mamma mia vabbè sto stop così va a aumentare la tensione ok questo lo mettiamo qui eh aspettiamo che lock aspettiamo che lock che metgo pure sti 4 stanno andando ok e chi qua oh mua lui si ha preso un po' de sveglie ah qua c'ho i 7 degli arkand che mi stanno a difendere incredibile ecco ok 7% tengo gay ah tutti i 7% sono coordinati gli azetti vedi sono telefonati eh che è qua no no dammi l'amicizia con le orte che fa quando sei proprio estremamente amico no ancora niente facciamo un'agenda karagonlu deve essere amico nostro improve relation togli questo ok sti 4 sono andati underground andiamo a crevare questo 1 qua però devo aspettare locca lochi lochi ok eccolo qua quanti cristiani hanno i russi 13k beh all'inizio era tipo 40 50 insomma hanno preso un po' di svegli ragazzi hanno preso un po' di botte ok 1k è morto mo andamo a prendere quest'altri bella idea questo di usare questi esercitini in più per andare a ammazzare questi esercitini in più per andare a ammazzare i cappini dei russi jianning ok qua ci stanno a prendere la capitale purtroppo allora se ci fosse stata l'esplosione di minga avremmo avuto fare la dinastia di yuan molto prima la dinastia di yuan ha delle idee che sono praticamente a livello di potenza dell'impero romano quindi purtroppo diciamo che su sta cosa ci ha detto zella questi hanno loccato quindi dovrebbe ok si l'ho beccati qua hanno 9k che non li posso affrontare però se dividono un altro po' insomma sto giochetto continua 2k che poi tratta triple feud prendi il punteggio di guerra ammazzando la gente i ming non so più una grande potenza no non so esplosi ok i ming non so più una grande potenza ok musca senti che mai vuoi darsi mai vuoi darsi i soldi mi dai 8.50 beh 8.50 mi dico pure war reparation visto che non ci pisteremo per altro per po' questi mi dico ok bayuli li andiamo a inseguire che vuoi 10 di prestigio 10 di prestigio e poi un po' di prestigio per un po' di anni grazie al nostro king oppure potrei prendere 005 autonomia persa in una regione però potrebbe diventare avaro il nostro king vabbè ma non ci interessano queste cose prendiamo appunto quell'altro del prestigio anche se il prestigio ce lo prende sempre max ok bash guild eh attenzione attenzione che allora sto esercito da 9k ora fa una brutta fine ok ok questo devo andare a inseguire questi qua perfetto eh ora che questi cominciano la battaglia prima che erano questi probabilmente stanno in negativo eh sì eh sì spero devo perdere ma meno di vabbè ma meno della metà no però insomma con pure uno svantaggio numerico si vince forte a proposito dove stanno andare usi stanno a scappa qui intorno no ok la marcia su mosca continua mamma mia che che macello che gli sto combinando hanno 6k truppe usi posso fare un'idea vediamo se conviene eh sì mancano 5 anni e devo fare il colonialismo 30% di improve relation e poi qua c'è tolerance degli infedeli che è molto forte poi si sblocca anche sconto alle idee e il mix che è meno 2 di national rest e un altro mezzo di prestigio quindi si fa il botto uno di stabilità oh ma quanti anni c'ha il king non mi ricordo che sia morto questo mi sa che è il secondo king a parte quello che hanno tagliato la testa subito quindi quindi in realtà non abbiamo probabilmente mai perso stabilire la morte del king vabbè c'ha 62 anni e pochissimo muore è destino ragazzi il gran khan anche se è un guerriero della madonna non può essere immortale 19k di order di nokai che è più forte dell'esercito completo dei nokai ok nokai completamente occupato dividiamo così le truppe gli occupiamo anche il territorio marcio alla Moscovia fino per 10 anni mezzo di unità dell'orda 25 red range e 10 di potenza commerciale via terra niente male i russi stanno veramente intrippati gli ho ciocato tutto l'esercito questo è come quando i mongoli sono reali davvero in russia e molto a pochissimo dovrebbe pure finire la regola con la corea niente eh non muo dai qua gli devo prendere muschia per forza tiè questo va avanti mamma mia che casino muo li mischio tutti insieme e poi li ricostruiamo questi esercitini eh Mosca ha rifatto un esercito qua però dai zì che mi serve pure quella cosa di fare i 2000 tutti insieme per fare la missione eh devo via a Mosca sicuramente per farli a rendere al 40% a questi ragazzi pure se c'è anche tutto l'esercito questi non pensano che sta a perdere 25% del punteggio c'ho incredibile c'è 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 un caluto esercito gli sto prendendo i peggio forti al ritorno potrebbe attaccare usi a breve speriamo e visto che questi hanno pochissimo eh Mosca ok quindi questi sarendono Mosca merita appropo questi sono ortodossi essendo ortodossi se prendo aggressive espansion contro loro non succede niente gli posso offrire un po' di sviluppo dalla capitale c'è 51% di 51% ci vuole quindi non ci vuole ancora molto ok un altro K qui prendo questo ok penso che Mosca rendano 47% e forse sto sprega tempo no no dai basta basta non glielo faccio il pillage per due di sviluppo ok allora i soldi ho presi la war repression l'ho preso a posto non glielo potevo fregare territori però ho fatto la tresoreria quindi avendoci una treasury meno 010 di inflazione per 25 anni niente male poi mo hanno gay gli facciamo un casino hanno gay 43 giorni dobbiamo aspettare che ritorni diplomatico mamma mia eh vado ok piano piano e hanno gay mo gli prendiamo tutto quello che do prende sti 2000 mo ci posso pure pensare mo ci pensare a prossima puntata pensare a do us li sti 2000 che in realtà mo la nostra economia regge da sola a parte il fatto che fanno solito ok quindi 99% 44 progressive expansion non importa solo hanno gay e ci siamo quindi diamo fuoco qua che non se può perché fa schifo diamo fuoco qua che schifo tutto deserto poco marcio fracico ok ok mamma mia quasi tutto tre sviluppo era non ho preso la miniera d'oro questa la solita genialata che fa alessio su dinamofiore iscriviti al canale ok mamma mia posti proprio marci in culo 363 posso aspettare un altro anno prima di fare questa cosa e prendere l'innovativness e ci siamo ci siamo dobbiamo solo ammazzare sti ribelli e poi posso fare il cor anche anno gay e mo posso attaccare la grit horde alleata dei timori ok cominciamo ad avere dei problemi con la gente grossa va bene ragazzi io con questo vi saluto ci vediamo nella prossima puntata in cui dobbiamo pistare la corea manca pochissimo in realtà la corea è finita già non me ne so accorto qui andiamo subito a marciare qua ci pistiamo la corea unifichiamo anche questa penisola e alla prossima